Buona sera, Gian di Noto presente, Attaquile presente, Mampanalessia presente, Cirea assente, Di Stefano assente, Campanello presente, Palermo Natascia assente, Palermo Pietro assente, Morello presente, Anguzza assente, Marino assente, Brangiforte assente, La Corte assente, Mampanalessia presente, Barbera assente e Carnizzo assente, presenti 6, assenti 10. Come prevede il regolamento, la seduta viene rinviata a data del Mr. Narsen. Buona sera.